ciao ragazzi bentornati sul mio canale oggi approfittiamo di questo video per conoscere l'alcol isopropilico che razza di nome strano e allora che cos'è l'alcol isopropilico innanzitutto è un alcol niente di più niente di meno quello che si può utilizzare per pulire disinfettare passarselo sulle ferite e allora che cosa di diverso dall'alcol comunissimo che troviamo al supermercato beh allora l'alcol che troviamo al supermercato quello rossastro rosa per fare per intenderci beh quello è un alcol che per il 70 80 per cento diciamo è a base di alcol il resto è acqua additivi coloranti essenze per dare un profumo gradevole questo invece l'alcol isopropilico è un alcol puro al 99,9 per cento perché perché per cosa serve soprattutto e allora posso dire che a tutti i signori e gli amici che mi lasciano i dislike quest'alcol lo possono utilizzare per farsi il limoncello o da mettere sul babà al posto del room per tutti gli altri quelli che o non mi mettono niente o mi mettono i like dico semplicemente che quest'alcol estremamente puro ripeto il 99,9 per cento non è per uso alimentare quest'alcol normalmente lo si utilizza per pulire parti elettroniche proprio perché a non avere coloranti o ingredienti aggiuntivi una volta evaporato non lascia residui ciò significa che nell'elettronica dandogli una passata a spruzzo con quest'alcol non corriamo il rischio di avere dei falsi contatti o dei difetti provocati da quello che potrebbe essere il residuo di un colorante come per esempio l'alcol rosa o un'ossidazione dovuta all'acqua presente nel classico alcol rosa ok questo qua evapora totalmente e vi lascia la vostra scheda elettronica per esempio assolutamente pulita quindi più che altro è uno sgrassante serve per togliere la polvere serve per pulire per bene ecco non è che c'è molto da dire serve per pulire per bene parti elettroniche che non possiamo andare a passare con un pennellino per la polvere ad esempio o che hanno una sporcizia tale una una polvere tale che si è diciamo incrostata e che non se ne viene più via per questa ragione si utilizza questo tipo di alcol che chiaramente come qualsiasi liquido tende ad ammorbidire la 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 poltiglia la la polvere che si è solidificata e se abbiamo a disposizione un buono spruzzo se la porta via in commercio ci sono bottigliette spray da 200 mililitri che sono quelle che vanno per la maggiore sono tipo le bolle le bombolette delle vernici solo che contengono alcol isopropilico quanto costano beh quelle da 200 millilitri costano tra i 5 i 7 gli 8 euro e poi c'è la possibilità di comprarlo a litri ci sono confezioni da un litro come questa questo è un litro e un litro sono un totale di due litri poi ci sono delle tanichette da 5 litri e oltre chiaramente più è grande il formato più è grande anche il risparmio l'unica difficoltà se vogliamo chiamarla così è che comprando la bottiglietta da un litro poi necessiterete di un erogatore che possa spruzzare l'alcol nella parte interessata per questo io avevo comprato il pistolone per il compressore vedete io lo metterò qua il mio alcol e spruzzerò laddove ne ho necessità dove ne ho necessità nel mio caso non si tratta tanto di una scheda di computer di cellulare o qualcosa di questo tipo nel mio caso ho un problema in un veicolo ho una parte elettronica un sensore elettronico di un veicolo che mi si è sporcato e da segna avaria segna avaria un'avaria nel nel quadro delle delle spie e il sensore in questione è il caudalimetro chi altro non è che un sensore posto nel nella zona dell'aspirazione dell'aria subito dopo il filtro dell'aria che misura la quantità di aria che entra nel motore del veicolo lo comunica la centralina elettronica e in base a questo temperatura dell'aria quantità eccetera la centralina elettronica da una quantità idonea invia il messaggio per inviare una quantità idonea di carburante che passa per gli iniettori sono stato un pochino torbido nella spiegazione ma spero che siate più capaci voi nel nel comprendere di quanto lo sono io nello spiegare comunque questa parte elettronica io non la posso pulire con un panno con un poco di cotrone idrofilo con un cotton fioc non la posso assolutamente toccare e l'unica cosa che posso fare per pulirla senza danneggiarla è spruzzarci a pressione dell'alcol isopropilico in questo modo si puliscono tutte quante le le la sporcizia le i detriti che sono entrati a contatto con questo sensore e dovrebbe speriamo tornare a funzionare come dio comanda un piccolo appunto giusto parlando di questo sensore questo sensore mi si è sporcato perché ho riscontrato una rottura nel filtro di aspirazione nel filtro dell'aria il filtro dell'aria si era rotto deformato per non averlo mai cambiato e praticamente aspirando il motore aria e terra polvere ha sporcato sicuramente questo sensore ragion per cui siamo qui ok ragazzi spero essere stato abbastanza chiaro di avervi fatto conoscere un prodotto nuovo io vi metto anche il link in descrizione per poter effettuare un acquisto sicuramente più economico di quello che si trova nei negozi io l'ho comprato su amazon.de l'amazon tedesco e queste due bottigliette da un litro cada una mi sono costate circa 13 euro contro i prezzi in italia che si aggirano comunque attorno ai 12 13 euro al litro non parliamo poi della bomboletta spray che insomma è equivale ad accarezzare un coccodrillo a livello di prezzo ok ragazzi con questo è tutto iscrivetevi al canale cliccate sulla campanella bla 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 e ci becchiamo più in là state in campana ciao